Domanda, prima domanda. C'è familiarità in questo? Certo, c'è familiarità tra pelle chiara e pelle chiara e figli con la pelle chiara? Certo. Quindi? Biondi e figli biondi? Certo, pelle così, lingua così? Ad esempio, c'è parte che io sape da mio nonno, mia mamma, noi, cioè io ho tre bambine. Come faccio a capire per tempo, a parte di portarle a fare i controlli? Ma già la lingua potrebbe essere un segnale? Vi faccio vedere. Allora, mi piace rispondere andando in profondità alle domande. Ti potrei dire sì, si può diagnosticare. Vi faccio vedere come va diagnosticata. Allora, Mirra, andiamo. Io ho il mio carissimo collega, con cui ho diagnosticato tantissime parodontite, veramente tante. Si usa per diagnosticare la parodontite un test parodontale, si chiama. Ok, un test si può fare della saliva, un pack parodontale che noi andremo a introdurre anche in Italia con un semplicissimo esame di uno scrub che viene fatto dell'interno della guancia e si fa un prelievo di tamponi all'interno delle tasche parodontali con un cotoncino che potrà essere fatto anche a casa. Questo si invia a laboratorio analisi, ci rimanda poi che cosa? Un grafico come questo, dove ci sono i diversi gruppi di batteri, ognuna di queste barre colorate non è un batterio, è un gruppo di batteri, perché poi la malattia è sostenuta da un gruppo di batteri cattivelli. Non è mai sempre un batterio che causa il problema, ma è un'associazione di batteri. Ci sono tanti batteri che vengono analizzati in questo schema e sono tutti questi batteri qua. A seconda di come sono associati tra di loro questi batteri c'è un gruppo, c'è il rosso, c'è il verde, c'è l'arancio, sono stati codificati questi gruppi e quando ci sono associazioni addirittura tra i gruppi è molto più probabile di avere una parodontite che è aggressiva, che è quella che in due anni ti fa perdere tutti i denti. Ci sono parodontiti che ti possono far perdere i denti negli anni, parodontiti che vai a curare subito, non li perdere mai, i denti dipende dall'associazione di batteri. Dal substrato, perché poi i batteri non sono il problema ma il substrato, i batteri ce li abbiamo ora sulle mani, nel viso, in bocca, dappertutto ce li abbiamo, ma se tu sei sano non attecchiscono. Se il tessuto, il corpo inizia a essere malato, debole, allora quelli hanno il sopravvento. Se in più magari ho dei fattori che ci associo come il fumo, ammazzo una certa categoria di batteri con le tossine del fumo, prevalgono altri batteri. Quindi ho dei fattori, delle abitudini viziate di vita che mi portano a sviluppare una certa flora batterica. Se in più ho il partner anche con quei batteri, ok, io mi curo, lui non si cura, è uno scambio continuo comunque di batteri. Quindi i batteri sono molto importanti ma non sono l'unica causa. C'è anche il fattore genetico, l'ereditarietà e anche le abitudini. E c'è anche che cosa? La prevenzione magari che non viene fatta. È una malattia multifattoriale, si dice, quando ci sono tanti fattori, sono tante cause. Se io ho un livido, per esempio un trauma, la causa è una, è il trauma che ho avuto. Basta che non sbatto, i lividi non ne ho. Poi ci sono magari degli ambienti dove io posso stare che sono più soggetto a sbattere. Magari se faccio che ne so lavoro di quello che serve ai tavoli, del cameriere, è molto più probabile che sviluppo lividi sulle gambe, perché camminando 8 ore al giorno sbatto sulle sedie, sui tavoli. Quindi ci sono, vedi, anche dei fattori predisponenti. Ti ho fatto l'esempio come per esempio quello che se lo va a cercare, che fuma. C'ha la predisposizione, però se fumi due pacchetti, si greta al giorno o peggio la pipa, è molto più probabile che avanza la selezione dei batteri, si incrostano, poi che cosa? Le parti di gengiva scoperta che vi ho fatto vedere prima. Dove eravamo? C'era una foto qua, per esempio queste parti qua si iniziano a incrostare, di tartaro, e quelle iniziano a sostenere in questa zona la tasca parodontale, e quindi qua abbiamo alcune zone, in genere sono le zone dove non arriva però lo spazzolino qua dietro, che iniziano a sostenere che cosa? Le colonie batteriche. Il tartaro, quello che si chiama tartaro, che si va a togliere con la pulizia dei denti.